Allora, siamo con i ragazzi che hanno detto che il progetto è più innovazione. Come è stata questa esperienza? È stata sicuramente un'esperienza formativa, perché non mi era mai capitato appunto di venire in università, poter esprimermi, poter fare un progetto del genere, quindi non solo mi sono divertita, ci siamo impegnati tutti, tutti hanno dato il proprio contributo ed è stata proprio una bella esperienza da rifare. Piacere, sono Arianna, faccio parte del Galilei, è stata sicuramente un'esperienza molto formativa, come ha detto già la mia compagna, tutti hanno partecipato, le emozioni sono state tante, io sono una ragazza di prima, è stato uno dei miei primi progetti e vincerlo è stata un'esperienza fantastica, a già partecipare, ci sono state un sacco di emozioni, tra felicità, ansie, un sacco di poche, rabbia, soprattutto, però ripeto, è stata un'esperienza fantastica e sarà da rifare sicuramente.